Ciao, oggi vi parlo di un coloratissimo titolo con un tema molto particolare, un mercato popolato dai draghi. Vi parlo di Flamecraft, gioco di Manny Vega per 1 o 5 giocatori, una durata di circa 60 minuti a partita ed edito da Lucky Duck Games. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Recensioni Minute Recensioni Minute Durante il proprio turno un giocatore ha due possibili opzioni, può decidere di raccogliere oppure incantare. Per raccogliere sposta il proprio drago in uno o qualsiasi degli altri negozi, ad esempio qua. Siccome è già presente un drago dovrò dare al suo proprietario una merce a mia scelta, ad esempio un pane. Dopodiché raccolgo tutte le merci che sono evidenziate nel negozio e negli eventuali draghi presenti, in questo caso quindi due incudini e una pozionecina che aggiungo alla mia riserva. Poi, se ci sono spazi liberi e nella mia mano ho un drago con il simbolo corrispondente, posso piazzare un drago in quel negozio. Piazzo quindi il lucidario che ha un simbolo di incudine presente qua e raccolgo il bonus che c'è scritto sotto, cioè una monetina. Siccome il negozio si è completato, pesco immediatamente un nuovo negozio da mettere a faccia in giù in uno spazio a mio piacere. Adesso posso attivare uno o qualsiasi dei draghi presenti al negozio. Attivo il potere di Lavanda, che permette a Lavanda di scambiarsi con un qualsiasi altro drago e attivare il nuovo potere. Il potere di Pan è di pescare una carta drago. Posso scegliere dal mazzo o tra quelli scoperti. Decido di prendere gioiele e aggiungerlo alla mia mano. Nel caso ci fosse anche un'abilità del negozio potrei attivare anch'essa, altrimenti il mio turno termina. Tocca al giocatore successivo che vedrà girarsi a faccia in su la nuova carta negozio e ripristinare le 5 carte drago in quello spazio. Per lanciare un incantesimo invece si fa quanto segue. Scelgo l'incantesimo Orchi Orchidee, che ha il simbolo di foglia. Quindi sposto il mio drago in uno dei negozi con il simbolo foglia. In questo caso quindi i draghi in boccio. Pago le risorse che sono indicate, quindi 2 diamanti e 3 pani alla riserva. E l'incantesimo finisce istantaneamente nel negozio. A me arrivano 4 punti vittoria, 2, 3, 4, e una carta drago che pescherò ad esempio dal mazzo in questo modo. L'incantesimo finisce sotto al negozio, quindi aumentando le iconcine che raccoglieranno risorse per i giocatori che ci arriveranno. Infine posso attivare tutti i draghi presenti al negozio. Pagnotto mi dà un nuovo carta drago e Abrametto in realtà mi permette di donare una merce a un giocatore a mia scelta per ottenere 2 punti vittoria in questo modo. Il mio turno termina, giro un nuovo incantesimo e tocca al giocatore successivo. Nel corso della partita poi si potranno attivare le abilità anche dei draghi eleganti, che si possono utilizzare una volta sola per ciascuna partita. E si continua a giocare così fino a quando non si esaurisce il mazzo degli incantesimi oppure il mazzo dei draghi. A quel punto il giocatore che ha più punti vittoria è dichiarato il vincitore. Il regolamento è davvero semplice da assimilare. In sostanza si tratta di raccogliere risorse oppure spenderle per lanciare incantesimi. Chiaramente il tutto sta nel cercare di combinare al meglio le proprie azioni in modo da massimizzarne i profitti. Se all'inizio infatti si tratta solo di andare in un negozio e raccogliere 1 o 2 risorse, via via che arriveranno draghi, arriveranno incantesimi sui negozi, le attivazioni vi porteranno sempre più cose. Inoltre usciranno anche i negozi con le abilità speciali e a quel punto potrete decidere di utilizzare quel negozio solo per quella abilità speciale, che magari vi fornisce punti vittoria, vi dà delle condizioni di sistemare i negozi in un modo per fare qualcosa. Insomma le possibilità si moltiplicano via via che diventerete più bravi. Da questo punto di vista vi segnalo quindi che l'interazione c'è all'interno del gioco. Non solo dovrete dare risorse agli altri se sono presenti all'interno dello stesso negozio, ma potrebbero rubarvi uno spazio prezioso a cui avrete puntato, oppure semplicemente avranno deciso di prendervi i draghi che vi servivano o hanno lanciato l'incantesimo che vi permetteva di fare tanti punti, magari proprio solo per soffiarvelo. Detto questo però non è sufficientemente distruttiva per mandarvi a monte i piani. Semplicemente rimanderete qualcosa o dovrete cambiare l'idea per il turno in corso. Per quanto riguarda la rigiocabilità vi faccio vedere che nonostante abbia già tutta la plancia piena, ci sono ancora tantissimi negozi da esplorare, ogni partita ne prenderete solo una piccola parte, potrete aggiungere dei draghi speciali a inizio partita che forniscono dei poteri asimmetrici ai vari giocatori e c'è poi un nuovo mazzo di incantesimi che sono un po' più complessi da lanciare ma che forniscono molti più bonus quando vengono lanciati. Quindi in sostanza combinarla a partita ve la rende sempre nuova. In sostanza unendo anche una grafica molto carina, molto piacevole agli occhi e con i nomi dei draghi che sono delle piccole storpiatorie di nomi veri che danno un po' l'idea di che cosa fanno i poteri dei draghi, questo Flamecraft si presenta come un bellissimo family plus nel senso che potete sedere al tavolo magari non proprio giocatori alla prima esperienza di gioco ma tranquillamente possono giocarci se hanno una minima esperienza. Contestualmente potete sedere anche giocatori esperti che troveranno piacere nel gestire le combo e ottimizzare sempre più i loro turni per fare più punti possibile. Non mi resta quindi che invitarvi a una prova di questo Flamecraft, se siete in 5 giocatori alla prima esperienza forse la partita si attesterà sui 90 minuti ma dopo i 60 minuti diventano verosimili. Approfitto per segnalarvi che c'è anche la modalità solitaria per cercare di fare più punti possibili mentre il gioco sviluppa un suo piano d'azione e quindi non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima! Bene, prima di salutarvi vi dico che sono contento di aver provato questo Flamecraft più che altro perché è uno di quei titoli che vi permette la chiacchiera al tavolo. Diciamo che non siete obbligati a guardare bene che cosa fanno gli altri quindi potete giocarvelo in maniera piacevole. Il vostro turno si sviluppa abbastanza velocemente quindi non c'è tanto downtime ma l'atmosfera al tavolo risulta decisamente rilassata. Il fatto poi è che la grafica vi permette di presentarlo un po' a tutti è sicuramente un plus da non sottovalutare. Detto questo lasciatemi qua i commenti su questo titolo non dimenticate di lasciarvi pollice giù e pollice giù e di iscrivervi al mio canale YouTube c'è proprio anche la campanellina da attivare così non vi perdete nulla. In descrizione poi trovate anche tre metodi per sostenere il progetto Recensione Minute in modo che ci siano vantaggi per voi e che il canale diventi sempre più bello. Ciao ne!